la nostra specialità la caldume caldume e poi quando veniamo siamo andati in un posto di bere due e mezza e ci faccio papà facciamo una cosa no non ne voglio un te non ne voglio un te, non ne voglio un te, non ne voglio un te, non ne voglio un te per regola di vita, a me non ne voglio un te, devi dare nella vita, non devi toglie ora si vede l'istinto buono dell'amico, se ne voglio un posto di chi dottor non è che io non c'è più mezzo pane quello che ho mangiato con te allora io non c'è più ne mancare dalle nostre patte si osa di ciò non c'è nè, chiedi che c'è non spai te allora facciamone due, cinque ne facciamo, cinque panini allora dico bene? c'ho bene diritto facendo un buon video ai tuoi famigli e al delito questo è lo strutto, questo è lo strutto questa è la parte cartilaginosa? esatto quella che non mangia lema è buonissima però è anche fragile questa è invece la milza? questa è la milza, questa è il polmone, questa è la trachea, la parte cartilaginosa e questa invece è la milza, quella che si vede bellissima e allora detto questo, vedi io lavoro con il vecchio metodo, vedi sempre lo strutto è come fare una struttura sempre con l'olio pulito non mettiamo milza piena di sogna, mettiamo la retta per asciugare, quella per me non va per i miei metodi di lavoro, perché il panino con la milza è un'arte e l'arte rinnova i popoli nel livello della vita quindi vanno delle scene il diretto ovvio non mi rappreparano all'avvenire così scrivono i personaggi giusto quindi questa come la fai detto sale si un attimino solo si un attimino solo non mi piace pure noi abbiamo un gabri in attesa in pochi giorni non lo stiamo aspettando abbiamo un gabrile in attivo i gabrile sono come i franceschi il mese è con noi il panino è pronto lo do a questa signora di qua la faccia è buona perché già ho visto che c'è c'era intenzione poi dopo picchia le tonda siccome non ce l'ho dato a te perché tu avevi il telefono impegnato ti liberai sull'utile? allora è tuo adesso è scannarozzato io prima non mangiavo il telefono e mi salto il telefono e mi salto il telefono e mi salto il telefono però il profumo è forza del sintomo grazie ah olè prego vai 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 grazie vai Giampaolo questo ma vedo pagare con la misa che sbattono da qua di là ma che stai facendo? tu non è te? posso conci che? io cazzo del telefono non so che posso ma se metto oh se lo vanno direttamente no no vago io no no uomo no eh qualche bevretto ce la facciamo un bevretto assicolo a mangiare per il momento però sono grandi ce la cambi no non ci mettere nuova a testa che la sua assa magari una non esagerare prego grazie mille capo guarda io ti potrei dare qualche piccola indicazione io non fumo e non bevo super alcol bravo e faccio sport bravo credo che credo che questo puoi aiutare molto assolutamente devo solo la binda no no e binda poi li basso amoretta cosi 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 sei pulito sì sì non ho mai fumato la sigaretta non ho mai fumato la sigaretta vediamo in diretta la reazione un po' di tutti allora la diretta è questa è caldo vero? è buonissimo vediamo la la reazione degli altri qua stanno mangiando di giù lo capiranno vai l'altro si allontano eccezionale si allontano buono? eccezionale non buono è un spettacolo veramente perfetto tu sei giorni pari per me bravo mangi su migliaia tre molto buono molto buono molto buono non c'è femura mangiate dopo pagare ma puoi fare signora c'è tempo per pagare si e appunto anche perchè può succedere un bistro e un altro panino o un uva anche perchè può succedere un bistro e un altro panino o un uva e e e e e e e e ok 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 ok